La scadenza elettorale si avvicina e si accende il confronto politico. Nel centrosinistra a tenere banco è ancora il tema candidature. Non solo il PD e il resto della coalizione. L'imposizione di nomi dall'alto divide anche il sindacato. In CGL c'è disagio per la scelta di Susanna Camusso, un'indicazione non solo slegata dal territorio ma che ha spinto il sindacato per motivi di opportunità a spostare da Napoli a Bari il forum sul mezzogiorno. Noi faremo questa iniziativa sul mezzogiorno, la faremo a Bari perché la campagna elettorale non sospende i problemi che abbiamo nel paese, che abbiamo nel mezzogiorno e quindi è utile continuare a parlare soprattutto ai cittadini dei problemi che si vivono quotidianamente. Se poi mi si chiede se questa è una candidatura utile ed opportuna per questo territorio io la giudico estranea a questo territorio e candidature paracadutate come questa io penso che non aiutino i cittadini a recuperare una relazione positiva con il territorio e con la politica. Tensioni altissime in Forza Italia dopo la scissione del gruppo dirigente. Fulvio Martusciello parla senza mezzi termini di campagna camorristica contro il partito e assicura che gli addi sono molto di meno di quelli preventivati. Concetti rispediti al mittente dall'ex coordinatore regionale Desiano che insieme a Pentangelo, Ferraioli e Sarno rappresenta alcuni dei big che hanno lasciato Forza Italia. Desiano ha fatto sapere che sono pronte le querele. La battaglia politica si arricchisce anche di una puntata giudiziaria.